5 aprile 2021 Il risorto è in noi Dal Vangelo secondo Matteo Capitolo 28 In quel tempo, abbandonati in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco Gesù venne nel loro incontro e disse Salute a voi Ed essi si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro Non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea. Là mi vedranno. Mentre essi erano in cammino, ecco alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Questi allora si riunirono con gli anziani e dopo essersi consultati gli edero una buona somma di denaro ai soldati dicendo Dite così I suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato mentre noi dormivamo E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute Così questo racconto si è divulgato fra i giudei fino ad oggi L'annuncio dell'evento della risurrezione di Gesù attraversa la storia attraverso i testimoni del risorto i quali credettero alle scritture Nelle scritture troviamo una costellazione di riferimenti al Messia alla sua natura divina alla sua consegna alla morte ed alla sua risurrezione Gesù stesso per tre volte lo preannuncia ai suoi Tutto quello che era stato predetto avvenne Tuttavia la durezza di cuore impedisce alla mente di capire e di credere Quello che sarebbe chiaro per i fatti rimangono oscure profezie e motivo di dubbio a causa del cuore che non è aperto allo spirito di Dio Così accade che gli ostili rimangono nella menzogna I sacerdoti pagano le guardie e messa a sepolcro perché annunciano il falso Gli apostoli ricevano l'annuncio della risurrezione ma non credono Davanti alla tomba vuota Pietro e Giovanni sono convinti di un furto del cadavere Solo allora Giovanni vedendo le bende comprende le scritture e crede Pietro rimane nel dubbio Così Tommaso, così i due discepoli diretti ad Emmaus lo stesso giorno La realtà della risurrezione di Gesù è il punto di arrivo della sua missione In quanto risorto Gesù Cristo assiede alla destra del Padre E riceve il potere su ogni creatura A lui è dato il giudizio e la potenza Per separare il demonio ed i figli delle tenebre dai figli della luce Per assicurare un regno di pace a chi ama Dio La chiave di tutto sta nella fede nella sua risurrezione Essa però non è manifestata a tutti proprio perché la fede non è contemplazione Ma luce oscura che chiede un atto del cuore Che vuole credere a quello che è stato annunziato Solo dopo l'atto di fede che persevera nelle prove Gesù concede il dono della contemplazione E la sua realtà divina come egli è Infatti vedere Dio è il premio per coloro che sulla terra hanno creduto Superando la prova del credere senza aver visto La ricompensa della fiducia è dunque il vedere La prova sta nel credere alla parola La parola fu affidata a uomini Che chiamiamo profeti di Cristo Che anticiparono nei secoli gli eventi della salvezza Poi la risurrezione del Cristo fu affidata agli angeli E dagli angeli agli uomini O ad alcuni uomini scelti per la loro missione particolare Gli apostoli, riluttanti a credere Furono costritti a vedere il risorto Ma ciò al nostro beneficio Che dalla loro testimonianza abbiamo ricevuto la fede Ovvero quello che Dio ci chiede di credere A credere attraverso l'esperienza degli apostoli Costoro riluttanti a credere Perché essi avrebbero avuto il compito di costituire il fondamento della fede Trasmessa alle generazioni future Vince Gesù la loro riluttanti a credere Vinse Gesù la loro riluttanza a credere Apparendo prima nel Cenacolo la sera del giorno della risurrezione E poi in Galilea sulla riva del mare Ma l'evento che rivoluzionò il cuore di Costoro E li mise in grado di comprendere nel cuore la realtà del Cristo risorto Fu lo Spirito Santo dopo la Pentecoste Il cuore indurito venne guarito e trasformato Allora il risorto cominciò a vivere in loro Ed essi divennero gli apostoli intrepidi fino alla morte Dell'annuncio del risorto E del perdono dei peccati mediante il suo sangue sulla croce E' fondamentale dunque credere alla trasmissione della parola dei Vangeli Perché solo la fede alla parola permette di dischiudere la mente E indirizzare la volontà alla fede in Gesù E poter ricevere la pienezza del suo Spirito La Pentecoste personale è la pienezza della comunione con Dio E attraverso lo Spirito del risorto che vive in noi La fede nel mondo è affidata alla nostra fede nella parola del Vangelo E connessa alla vita divina nell'anima per mezzo dello Spirito Santo Noi siamo gli strumenti della propagazione della luce Ma tutto passa attraverso la fede semplice, sincera e schietta del Vangelo Solo così la parola si trasforma in parola viva e vivificante Oggi siamo noi i testimoni incaricati della risurrezione Dio vi benedica